Come possiamo sfuggire, mi verrebbe da dire, a questa rete, a questa trappola, mettiamola così, che i grandi brand, le grandi multinazionali creano per tenerci dentro le loro piattaforme? Allora, sicuramente prima di tutto è prendere consapevolezza di come noi usiamo il mezzo. Attenzione, non sto dicendo di quanto noi lo usiamo, questo viene dopo, ma è ancora, sì, perché possiamo anche prendere nota di quanto lo usiamo, il famoso appunto screen time, ma soprattutto di come lo utilizziamo. Questo è molto importante, io vedo che stanno sempre più di moda il famoso digital detox, ok? Allora, a me non piace, lo dico subito, nel senso, allora, il digital detox ha una sua utilità, sicuramente, attenzione, ma ha l'utilità di farci scoprire per uno o due giorni che possiamo stare anche per un certo tempo senza il cellulare, ok? E anche qual è il senso di sollievo che noi possiamo sperimentare usando meno il cellulare, può essere un po' quella terapia ad urto, quella botta di consapevolezza, ma non basta, a me fanno un po' ridere quelle persone che, soprattutto ora che arriva l'estate, ha digital detox, è un po' come dire, parlando del cibo, io mi strafogo per 374 giorni, poi mi metto un giorno a dieta perché devo fare il detox, insomma, non è proprio funzionale, lo sappiamo tutti. La stessa cosa per il digitale, che senso ha, ok? Certo. Sì, dimmi. No, mi chiedevo, visto che abbiamo proprio dato il titolo a questa nostra chiacchierata come digital detox, quindi è interessante questa cosa, no? Questo rapporto che tu hai con questa considerazione che hai appena fatto, è interessante perché è vero, è verissimo, nel senso che, no, facciamo una terapia ad urto, stessa cosa che riproponiamo magari con la dieta, lo facciamo con la palestra e con tante altre cose, no? E poi magari durante il resto dell'anno ci rispondiamo e non usciamo da quel processo di consapevolezza che magari attraverso un digital detox, per esempio, potremmo in qualche modo cominciare ad avere. Allora ti chiedevo, come possiamo estendere questo processo di consapevolezza anche durante il resto dell'anno, in modo tale che possiamo tornare ad avere un utilizzo più consapevole degli strumenti digitali che ci circondano, in primis il nostro smartphone, come dicevi tu. Sì, penso soprattutto, perché poi... Certo. Allora, a me piace molto di più la filosofia del digital minimalism, cioè il minimalismo digitale, piace molto di più. Perché? Perché il minimalismo digitale non prevede, cioè non necessariamente, non si focalizza su quell'unico giorno, quegli unici due giorni dell'anno in cui riusciamo a stare completamente senza il cellulare, ma è più semplicemente una filosofia che ti accompagna per tutto l'anno, quindi tutti i giorni, semplicemente appunto riducendo all'essenziale l'utilizzo del digitale. Attenzione, l'essenziale intendo dire innanzitutto in modo consapevole, ossia banalmente qualcuno ti viene un dubbio oppure qualcuno ti chiede una cosa, e una cosa banalissima che non... niente, e tu subito vai a cercare su Google, vai a leggere, vai e così via. Chiudi, dopo un po' viene in mente un altro argomento, a te manca quel dettaglio di subito vai di nuovo su Google, vai a cercare, vai a cercare, avanti così tutta la sera magari in pizzeria. Allora, il discorso è, ma quell'informazione ti serve veramente così tanto nella tua vita? Una volta che hai scoperto quante anni ha quel VIP lì, faccio un esempio, per carità sì è cultura generale e siamo d'accordo, però sei in pizzeria, sei tra amici, ti serve veramente sapere che tanto poi magari giorno dopo te lo sei anche dimenticato, la cosa bella è quella poi, che siamo tutti a caccia del maggior, del più informazioni possibili, però dopo 24 ore già ce le siamo dimenticate, e quindi a questo punto tanto vale, questo prima di tutto, poi sicuramente le notifiche distraggono e le notifiche sono fatte apposta per farci tornare sul gioco, sull'applicazione, ad esempio noi pensiamo, ok se pensiamo ad esempio al Facebook di turno, le notifiche arrivano, forse perché c'è qualcosa di interessante, ma pensiamo anche ad esempio a tutti quei giochi che attivano delle notifiche e che ogni tanto ci ricordano di tornare a giocare ad esempio, sono fatte apposta, allora innanzitutto disattiviamo le notifiche di cui possiamo fare a meno, ad esempio io il mio Facebook l'ho settato in questo modo, nel senso che io ho rimosso tutte le notifiche, quelle push, quindi quelle che mi compaiono sullo schermo, poi ho completamente tolto le notifiche di cui non me ne frega nulla, tizio è iniziato a giocare A, ma chi se ne frega tutto sommato, ma tizio chi che manco conosco, cioè si chiama amico perché siamo in contatto, ma chi è? Quindi quelle proprio completamente disattivate e insomma tengo all'interno dell'applicazione solo quelle notifiche a cui non posso fare a meno, per cui l'idea è quella di fare in modo che siamo noi a decidere quando aprire l'applicazione, non deve essere l'applicazione a decidere quando noi l'apriamo, ad esempio io le email, le notifiche le ho disattivate tutte, io me lo posso permettere perché qualcuno mi manda un'email, anche se la leggo dopo qualche ora, sicuramente non, ok ovviamente se si può fare, attenzione, è ovvio, poi dipende anche dal lavoro, dipende da le situazioni, esattamente come ad esempio Twitter, ad esempio, sì ogni tanto lo uso ancora, come notifiche sul cellulare ho lasciato solo quelle dei messaggi, perché se qualcuno mi manda un messaggio, forse è anche un messaggio importante e che richiede una risposta abbastanza veloce, allora è giusto che mi arrivi la notifica, ma il retweet no, ad esempio sono io che vado, ad un certo punto che ho mezz'ora di tempo, andiamo a vedere su LinkedIn, andiamo a vedere su Twitter, andiamo a vedere su Facebook se è successo qualcosa, ma sono io che lo decido, questo è fondamentale. Certo, riprendi tu in mano il processo decisionale. Esatto, esatto. Decidi tu quando ritornare sulla piattaforma. Esatto, e questo a differenza del fatto proprio di non usarlo, ci aiuta anche a livello della costanza, perché parliamo del classico FOMO, Fear of Misting Out, che c'è sempre stato per carità, però nel caso con l'arrivo dei cellulari questo fenomeno è diventato ancora più importante, ossia il timore è che se io non guardo il cellulare per due ore, chissà che cosa succede nel mondo che io mi sto perdendo, di molto importante, però in realtà nulla, il mondo gira lo stesso, gira da miliardi di anni, quindi non ti credere, ok? Allora che cosa succede? Se noi pensiamo, proprio mentalmente parlando, di dover ad esempio uscire, lasciare a casa completamente il cellulare, a parte che in alcuni casi si può fare e non ci succede nulla, però io dico se noi dobbiamo uscire di casa e però rimanere tutto il giorno della nostra gita, con i bambini, con il nostro partner, con gli amici, pensando ah cavoli chissà se quello mi ha risposto, chissà che è, allora no, te lo porti dietro, ok? Ma te lo porti dietro con questa consapevolezza, così tu sei tranquillo, perché ce l'hai dietro, ma allo stesso tempo non ti fai manovrare dal cellulare. Quindi diciamo... Sì, dicevi il siero principale? Il siero principale è quello, poi sicuramente l'utilizzo spasmodico del cellulare è anche collegato a stati d'ansia ad esempio, quello poi è un altro discorso più profondo. Infatti adesso diciamo, quindi se assumendo il processo di consapevolezza può essere in qualche modo aumentato, migliorato, prima di tutto chiedendoci se le informazioni che stiamo andando, che stiamo chiedendo all'internet, al Google di turno, veramente ci sono necessarie in quel momento, se possiamo farne a meno o sono veramente delle informazioni che possono cambiare il corso della nostra vita di quel momento, il gestire le notifiche in maniera più efficace e più intelligente, riprendendo in mano il processo decisionale di stare dentro una piattaforma decidendo quando farlo e quanto tempo starci, piuttosto che lasciare che sia la piattaforma ad attirarci attraverso delle notifiche che sono state proprio programmate e costruite appositamente per attivare i nostri processi mentali che ci catturano e riportano la nostra attenzione dentro al sistema.